Accende i motori, il Prato 2000. La matricola pratese che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza è stata presentata in grande stile presso il ristorante Il Piccolo Borgo. Tanto entusiasmo e anche la voglia di continuare a crescere dopo due promozioni consecutive. È una squadra molto giovane come è nostra tradizione con alcuni ragazzi esperti che faranno un po' da chiocciotti gli altri con l'obiettivo primario di mantenere questa categoria. Squadra che vince, non si cambia, con pochi innesti di qualità. Il difensore Gregorio Mazzanti dalle Badesse, i centrocampisti Tommaso Lunghi e Leonardo Chiti dall'Aglianese, l'attaccante Alessandro Moscardi dalla cuoio Pelli. In panchina confermatissimo il tecnico Simone Settesoldi. Diciamo che il nucleo storia è rimasto e questa è l'osa più importante. Abbiamo inserito, credo un giocatore per la categoria sia veramente fuori categoria che è Mazzanti dietro, senza togliere qualsiasi altra cosa, altri come i lunghi, i giocatori che comunque io conosco. Però il Prato 2000 io penso debba pensare intanto a diventare squadra e questo è quello che farò io appena con i ragazzi ci troveremo per iniziare la preparazione. E poi, insomma, vediamo il girone. Vediamo il girone perché io credo che ci sia delle squadre molto attrezzate come ce ne sono squadre molto normali. Quindi se capita in un girone dove ci sono 3-4 squadre attrezzatissime diventa difficile fare tutto un campionato in un certo modo. Se vai in un girone in cui ce ne sono 5-6 è ancora più difficile. Quindi, insomma, vediamo un attimino. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, salvarsi il prima possibile e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione, cioè un calcio importante, bello da vedersi, che dia soddisfazione ai tifosi, alla società e soprattutto a noi lo facciamo. Il Prato 2000 giocherà le proprie partite casalinghe al campo sportivo Puskas di Signa e sarà una formazione tutto fosforo alla ricerca della propria dimensione in eccellenza con l'obiettivo della permanenza in categoria. È una società ambiziosa, hanno un bel progetto dietro e sono contento di essere venuto qui oggi. Abbiamo fatto una prima sgambata e mi sembra ci sia un bel ambiente. Quest'anno sicuramente dobbiamo fare il meglio che possiamo, sicuramente dobbiamo cercare di crescere il prima possibile in una categoria importante che è nuova. Vogliamo divertirci, vogliamo fare un bel calcio e fare il meglio possibile. Sarà un'esperienza nuova per il Prato 2000 perché sarà il primo anno in eccellenza. L'obiettivo è quello di salvarci, di fare un campionato pensando domenica dopo domenica come abbiamo fatto l'anno scorso. Il Prato 2000 parte affari spenti ma dopo due promozioni consecutive sarà bene seguire con attenzione la squadra di Simone Sette Soldi che ormai ci ha abituato a sorprendere.